mi sto godendo la mia pedalata direi non più pedalata possiamo parlare di camminata perché come si conviene ai prototipi in qualche guasto meccanico ci vuole è successo che la catena ha pensato bene di cambiare corona quella anteriore la catena da parte davanti che doveva sempre stare sulla corona più piccola è passata alla corona intermedia col risultato che si è tesa non c'era niente che consentiva il tensionamento tranne questo e siccome è bello storto e anche il tutto il blocco motore nuova via dritto se io faccio mezza pedalata la catena salta giù quindi mi sto spingendo per solo 4 chilometri da casa la bici fino a casa anche perché è grossa come non mi sta dentro più nell'automobile anche se mi faccio venire a prendere direi che intanto tempo di rifletterci su sul da farsi per sistemare la cosa sicuramente la prima soluzione che mi viene in mente dopo aver raddrizzato questo pezzo o eventualmente sostituito se non riesco a raddrizzarlo sarà quello di seminare dei guida catena un po dappertutto però non so se riesco a farcelo stare sulla coroncina di sotto perché non c'è spazio vicino quella appena accanto quindi forse la soluzione meno peggio in questo punto sarà modificare il ten di catena in modo che nel caso che succede di nuovo questa cosa sia lui a spostarsi e non tutti quel pezzo di bomba a deformarsi in maniera così scrausa così profonda e soprattutto mettermi in condizioni non poter tornare a casa pedalando passo e chiudo